AXIMPSON 4.39.1 questa è la nuova hack ricordo che questa qui è solamente la guida scopo illustrativa e non ha nessuna responsabilità di danni uso proprio del materiale questa che consiste se avete sciambelle zero di poter acquistare tranquillamente nello store ricordo che per chi ha le proprie sciambelle prima verranno scalate le sue e poi anche se avrete zero potete continuare a comprare in tanti mi avete chiesto come mai non funziona più l'accelerazione gratis questo non è colpa mia ma è solamente chi le crea che stanno uscendo solamente in questa maniera qui come potete vedere l'ac funziona tranquillamente ad esempio ho una sciambella sola però se voglio mettere qualsiasi cosa che costa anche più di una sciambella me la fa inserire come potete vedere per accelerare ora vi faccio vedere o sciambelle zero voglio accelerare qui mi costa due come potete vedere mi manda nel negozio e nel negozio così non mi fa vedere punte sciambe cioè mi fa vedere le sciambelle solamente a pagamento però se io vado direttamente nello store vado sul simbolo delle sciambella e dei soldi trovo la cassa che dà la dozzina delle sciambelle ci clicco e come potete vedere ho 12 sciambelle e ogni volta che c'è chi come le dalle altre 12 altre 12 e così potrete accelerare i lavori non so se funziona a tutti questa cosa del pacco delle sciambelle gratis perché ho avuto diverse persone che non li funziona così a me mi ha sempre funzionato e come potete vedere qualsiasi volta vado nello store le 12 ciambelle ce l'ho sempre gratis ricordo non andate all'interno dello store direttamente dal quando vi dice negozio ma entrateci dallo store direttamente sotto il video lascerò link per il download e con questo è tutto alla prossima lasciate un like se vi piace